In questa puntata, terza variazione di bilancio, bilancio consolidato, comunità energetiche Regione, terza variazione di bilancio 2022-2024 approvata maggioranza Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive tuttavia questa manovra presenta alcuni tratti importanti molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito In particolare la Lega ha speso molte energie nell'evidenziare che a seguito della variazione di bilancio ci dovesse essere un aggiornamento del DEFRE così come previsto dalla legge 1 del 2015 Noi abbiamo mandato una lettera al Presidente del Consiglio per richiamarlo su questo aspetto e lo abbiamo evidenziato nel corso della Commissione Controllo aprendo un dibattito su questo e evidenziando anche che lo stesso regolamento del Consiglio regionale e lo Statuto richiamano a più riprese la necessità che ci sia un coordinamento su queste normative Non abbiamo ricevuto risposta e anzi quando l'abbiamo ricevuta da parte del Dottor Giacomelli che ringrazio comunque, non ci ha soddisfatto perché anche nella stessa risposta che ha dato sia in Commissione Controllo sia nella Commissione numero 1, nella Commissione Bilancio dove c'è il collega Casucci, si è evidenziato quanto probabilmente la Lega ha messo il dito su un tema che è un tema significativo Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie non c'è diciamo un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti Sì, è la variazione che come al solito vede la cultura protagonista dei finanziamenti e sono i finanziamenti ordinari per il funzionamento delle grandi istituzioni culturali di livello regionale e delle associazioni, un settore che impiega migliaia di lavoratori e lavoratrici che erano e sono in trepidante attesa di questa variazione per poter serenamente far fronte ai bilanci e alle attività che hanno finanziato in questo anno Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della regione toscana ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate ma c'è anche delle cose straordinarie ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di massa dopo che la regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE a caso di una sua endemica inerzia Stendiamo intanto un velo pietoso e speriamo sia l'ultima volta che lo dobbiamo stendere sulle modalità con le quali la Giunta Gianni pretende che le opposizioni vivano il Consiglio regionale della Toscana è arrivata una variazione di bilancio che è composta da 49 articoli diventati ieri sera poi 53 sono stati consegnati nella sua versione definitiva ai consiglieri ieri alle 15 chiedendoci stamattina di votarli dopo che c'erano stati concessi otto giorni scarsi per poterli discutere motivando gli otto giorni con la massima urgenza in otto giorni non si legge un bilancio non si legge un bilancio fatto come questo questo è un bilancio che ha al suo interno 20 articoli che servono a rimandare al prossimo anno gli investimenti che erano previsti per quest'anno Siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo innanzitutto non ci è piaciuto il metodo perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in consiglio soltanto l'8 di novembre in prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura tre rinvii i grandi beneficiari di questa variazione di bilancio sono la cultura e la sanità pubblica e credo che queste sono due priorità che la Giunta e che la maggioranza in Regione ha ben presenti Per quanto riguarda la cultura sono state trasferite una serie di risorse per quanto riguarda le maggiori istituzioni culturali della Regione come avviene ogni anno ma anche finanziate per esempio la cultura diffusa quindi credo dire una cosa molto molto necessaria così come le risorse alla sanità intervengono perché la sanità sappiamo ha dovuto anche in questo anno sostenere spese ancora legate alla pandemia che non è scomparsa Una variazione di bilancio che di fatto ci delude tantissimo perché noi riteniamo che un ente legislatore di programmazione come la Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri dovremmo finanziare gli alloggi popolari non quell'impianto sportivo, quel teatro, quella scuola perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori noi riteniamo che in questa fase tanti dovrebbero essere gli interventi per sostenere il carico delle famiglie soprattutto da un punto di vista di interventi sociali in un momento di crisi drammatica, di crisi sociale pesante con gli sfratti che aumentano, con le richieste di contributo all'affitto che non riescano ad essere colmate dagli enti locali quindi ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali Un atto molto importante che Tel Avivo ha sostenuto con forza perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse la Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori, Tel Avivo è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo due anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della Regione Toscana il fatto di avere solo tre variazioni di bilancio in un anno da conferma della ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022 e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della Regione Toscana Regione, approvato il bilancio consolidato 2021 dall'atto emerge un passivo di 30 milioni e 600 mila euro fortemente condizionato dalla pandemia In Commissione Controllo abbiamo analizzato il bilancio consolidato della Regione ovvero sia il bilancio che comprende il perimetro intero del gruppo amministrazione pubblica che fa riferimento alla Regione Toscana Rispetto all'anno scorso dove si segnava un risultato positivo di oltre 320 milioni quest'anno c'è un risultato negativo di 30 milioni che vuol dire che in un anno la Regione Toscana ha bruciato quasi 350 milioni di valore ritornando peraltro a segnare un'inversione di tendenza anche sul valore del patrimonio netto di tutte le aziende consolidate insieme alla Regione che segna un saldo negativo di 836 milioni Sono dati preoccupanti così come è preoccupante la perdita secca di valore delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione Toscana che segna un saldo negativo di oltre 9 milioni Approvato il bilancio consolidato un atto importante di tenuta della maggioranza politica che trova fiducia diciamo in questa approvazione di questo atto fondamentale un atto che denota comunque una difficoltà che ancora c'è a trovare un equilibrio rispetto alla tenuta dei conti sanitari alcune misure vengono adottate in questa fase è evidente che il Governo debba avere una consapevolezza maggiore di quella che è l'importanza della sanità nel contempo è necessario garantire risorse al sistema locale soprattutto quello delle residenze sanitarie assistite pubbliche e private convenzionate c'è un sistema sanitario che nei territori sta affaticando penso al volontariato, al sociale e su questo settore noi dobbiamo confermare la massima attenzione quindi nell'approvazione del consolidato trova il sostegno della nostra forza politica di Italia Viva a questa maggioranza ma soprattutto nel garantire le risorse necessarie ai territori per mantenere in equilibrio i conti di una Regione in una stagione che comunque ovviamente non semplice ma che deve trovare la Regione Toscana all'altezza del proprio compito Sì, il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 tiene conto non solo del bilancio dell'ente regione in senso proprio ma anche del bilancio del Consiglio regionale e soprattutto quella decina di società, enti partecipati, controllati o comunque che hanno anche indirettamente una relazione con l'attività della Regione quindi è uno strumento che consente di avere una visione d'insieme molto utile e i dati che possiamo trarre dal bilancio consolidato sono dati preziosi anche per monitorare l'attività non solo dell'ente regione in quanto tale ma anche della galassia degli enti e delle società derivate Ambiente al via le comunità energetiche Sì, abbiamo appena approvato la legge sulle comunità energetiche è un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'Aula Consigliare Soddisfatti del lavoro fatto in seconda commissione condiviso all'unanimità un lavoro anche lungo perché comunque ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche rinnovabili per oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge l'unico punto su cui noi abbiamo chiesto un impegno e l'assessore Monni se l'è preso finalmente è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green la Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa Sì, le comunità energetiche sono uno strumento, una risposta importante per poter acquisire maggiore autonomia e ridurre i costi dell'energia ovviamente ce n'è bisogno per quanto riguarda le famiglie per quanto riguarda le imprese Fratelli Italia ha votato favorevolmente all'inizio del percorso sulle comunità energetiche perché riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato dove il pubblico fa la locomotiva il privato che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici è un tema assolutamente attuale nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia nel dare una risposta locale, municipale una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato soprattutto il mondo del no profit e nel contempo la possibilità di integrare le comunità appunto di cittadini, di imprese e di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo città di 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 città in più grazie a tutti Grazie per la visione!